Ci siamo dati delle regole fondamentali, innanzitutto l'assistenza e la consulenza al cliente. Qui stiamo parlando di un mercato business ed è fondamentale assistere il cliente in tutte le fasi del suo ciclo di vita. Quindi che cosa significa? Che il cliente quando chiama ha un'immediata risposta di un operatore e di un consulente, che quasi sempre poi è lo stesso, noi cerchiamo, a parte le rotazioni, le turnazioni che hanno i nostri consulenti, di far rispondere sempre lo stesso consulente, allo stesso gruppo di clienti e soprattutto poi dopo cerchiamo di non essere invasivi con le chiamate uscenti. Tendiamo a non farle se non quando richiesto ovviamente dall'assistenza al cliente. Lo sviluppo di Winter Business Direct è su due direttrici principali. Da una parte le funzionalità digitali online di self-provisioning, self-caring e informazioni online per i nostri clienti. E dall'altra parte ovviamente la profondità d'offerta. Oggi offriamo servizi di telefonia mobile, sia voce che dati, e smartphone e tablet, quindi prodotti. Domani offriremo servizi di telefonia fissa, servizi ICT a valore aggiunto per arricchire sempre di più il portafoglio di prodotti e servizi che offriamo ai nostri clienti.